Dove sono quando non sono nella realtà e neanche nella mia immaginazione? Faccio un nuovo patto col mondo, che ci sia il sole di notte e i nevichi d'agosto. Le cose grandi finiscono, sono quelle piccole che durano. La società deve tornare unita e non così frammentata. Basterebbe osservare la natura per capire che la vita è semplice e che bisogna tornare al punto di prima, in quel punto dove voi avete imboccato la strada sbagliata. Bisogna tornare alle basi principali della vita, senza sporcare l'acqua. Che razza di mondo è questo? Se è un pazzo che vi dice che dovete vergognarvi. Adesso musica. Musica, musica! Ah, questo l'ho dimenticato. Oh madre, oh madre, l'aria è quella cosa leggera che ti gira intorno alla testa e diventa più chiara quando ridi. Innanzapa. Innanzapa. Grazie. La musica non funziona, aiutatemi. 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 Sì, sì, sì! Grazie, 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 grazie. Abbiamo un spettacolo molto speciale. Una piccola divertimento. E come mi mamma dice sempre, che è la vita senza divertimento. E ora, ragazzi, vi faccio la ultima acquisizione al N-1000. Dio Alemania. Tierra del bárbaro. Dio Alemania. Dio Alemania. Dio Alemania. Dio Alemania. Dio Alemania. Lui si qui la relazione ha detto il cristiano. Certo che la signorina ha le limitazioni e ha bisogno di ogni tipo di talento. E' un po' molto piccolo, natural. Non sape di spazio, non sape di spazio, non sape di spazio, non sape di spazio su nariz. Però si sape come un pazzardo, ha una garganta di ovo. Venga vuoto, avanti! Bocanuda! Bocanuda! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.